Con l'epifania che tutte le feste portano via, ecco qui la calza rustica. Se volete vedere come preparate, mette con me così la facciamo assieme. Guardate il formaggio come fonde. Calza della Befana. Tagliamo con carta forno la calza. Poi ho preparato questa pasta frolla con 200 g di farina, basso in cerdicemico, due uova, un cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale. Io ho usato l'elitritone. Facciamo così due perché dobbiamo coprirle una sull'altra. 100 g di ricotta spalmata, 60 g di prosciutto cotto, qualche fettina di provolone a oricchio, mettete scamorza, un po' di pepe e poi copriamo. Quando dobbiamo chiudere diamo dei pizzicotti così ai bordi, proprio come se fosse la cucitura della calza, ok? E poi così almeno non fuoriesce il contenuto. Et voilà! Con il pezzettino che avanza potete fare la banda sopra. Adesso andiamo a spennellare un po' di albume e puzzichiamo ancora la facchetta. Mettiamo su una teglia con carta forno un albume. semi di sesamo, poi inforniamo a 200 gradi per più o meno un tre quarti d'ora, 40-45 minuti. Eccola qui, adesso la mettiamo al forno, 200 gradi, 45 minuti, forno statico. Ok, adesso è quasi pronta, sforniamo e facciamo sempre la prova a stecchino. Prova a stecchino, asciutto, possiamo spegnere. Voilà! Buona beffana a tutti!